Sono arrivati un bellissimo, non lo so, è uno steyer, bello bello. Ciao, andiamo a filmare gli altri, che ne avremo, che ci metterò di tempo per filmarlo. Non lo so che cosa sia. Bello, un semi che sta arrivando ancora adesso, bello. Guardiamo che bello un Lilliput con la semi in misura, guardate che bello, un goldoni come il mio, cioè il mio è più vecchio, è di un altro modello, bello eh. Bello sto Ford, è un Ford super bello. Che bello, un Lamborghini nuovo. Uno Zetor, bello. Un Fiat 640. Un altro Fiat, la piccola mi sembra, 211. Un Masei. Un bel Highland, molto raro. Un Sammy. Bello. Landini, 7500 mi sembra, proprio. Un Fiat Agri 110, 90. Un altro Fiat Agri 880. Qui vediamo un Bellesa, con dietro un motore. Poi un Belarus, che lo trasporta. Bello. L'Alford con su un Fiat. Dubico che lo tirino giù. L'Alford, adesso lo filmo da davanti, se riesco. No, c'è troppa gente, comunque da qua si capisce. Un Ford. Un Deus. Bello. Poi. Un Fend. Un Steier. 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 Questo è un'altra grosso, mamma mia. Steier. Steier. John Deere. Qua ci sono delle motoseglie in un ceppo. Poi qua un bellissimo case. John Deere. Otto rarissimo, bianco. A quattro ruote. Un Bells Fend d'epoca. No, aspetta, no. Un Lombardini. Lombardini. Bello. Un moto rosso a quattro ruote. E un Far. Bello questo. Bello. Bello. Un bellissimo same. Un altro same quattro per quattro. Mica si scherza. Bello. Un altro same. Meglio che sta un po' più lontano. Che almeno li filmo meglio. Ecco. Un altro same. Un altro same conservato, penso. Sì. Same bello. Quattro per quattro. Mamma mia. Anche questo è bello. Anche se non è quattro per quattro. Il suo vanto con i doppi tubi ce l'ha sempre. Bello. Conservato. Anche questo è conservato. Anche questo. Anche questo Lamborghini è conservato. Bello. Questo mega same qua è bello. Anche lui. Questo è un altro bel same. Vediamo se riesco a fare il video. Ma già la gente. Un altro same con l'aratro. Questo è restaurato. Madonna che bello. Bello. Un mega same. Con le ruote strane. Non ho mai visto uno con le ruote così. Un altro same. Vediamo se riesco a filmarlo. No. Permesso. Permesso. Oh ecco. Da qua lo filmo meglio. Anche questo è bello con il ferro di cavallo. Same. Ristorato benissimo. Same. Same. Mamma mia. Qui c'è. Ci sono quasi 200 trattori secondo me. E non ho ancora finito di filmarli tutti eh. Un altro bellissimo same. Same 4x4. Bello. Bello. Cavolo. Veramente. Questo è un aratro stranissimo. Ad un fame. Bello. Bello. Cioè dovrebbe essere un fame. Un bellissimo lesa titano. Vediamo che bello. Nandini R3000. Un altro lesa titano. Un altro lesa titano. Un nè non lo so. Same forse sì. Same penso. Un altro Golia. Poi un Nibi. Che è del mio amico Ginetto. Il presidente dell'Ama. Un... Non mi ricordo. Un... Non lo so. Non lo so. Non lo so. Un bel motore anche questo. Un bel tartorino. Un bel tartorino tagliaerba white. Un lugli. Un lugli 10 cavalli. Un altro lugli. Bello. Il blu metallizzato. Un altro lugli. Il blu metallizzato. Una bella ruspetta. Poi... Arriviamo lì all'ESA. Qua ci sono tutti i landini. Dopo li filmo. Un altro... Bel trattore. L'ESA. Bello. Mamma mia, davvero. Questo è l'Epercron. Oppure il modellino dell'Università Hobbies. Bello. Poi... Un bellissimo... Orsi. Bello. Bello. Poi... Un velit restaurato con il gasolio, mi sembra. Cioè, lucidato. Un altro landini. Un altro super landini. Bello. Un bel motore. Vediamo se riesco a filmarlo meglio. Altri motori. Vediamo se riesco a riprenderlo. Bello. Poi... Questo prima era acceso. Bello. Questa è la parte che adoro. Quella dei landini. Bello. Vellit. Penso sì. È certo che è un velit. Poi... Un 25-30 con i cerchi arancioni, come piace a me. Bello. Poi... Un altro landini. 25-30. 25-30. Bello. Un altro landini. 25-30. Un altro landini. 25-30. Un landini... 30. Un altro landini. 25-30. Un altro... 25-30. Un altro... Un bel Fiat. Mamma mia, bello. Sembra quello del mio amico Andrea, che ho conosciuto su Instagram. Bellissimo. con pure il cerchio qua di argento. Bello. Madonna che bello. Un altro bellissimo landini. 45-50. 55-60. Un landini 35-40. A vederlo così, sembra. Poi, un 44-Major. Ah, eccolo. Mancava. Un altro 44-Major. Così di bello. Bello. Sara, la nuova seda, la nuova seda. Poi, un 45-50. E un 55-60. Bello. Bello. Veramente bello. Se volete un altro raduno bello e concordia sulla secca a Modena. Bello.